Buon anno a tutti da Francesco Amodeo, vi auguro un 2023 all'insegna della consapevolezza e soprattutto che possiate contribuire tutti a far sì che non accadano mai più scene del genere. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS E' un posto dare bacio alla mia ragazza? Eravamo lì, eravamo lì dove non c'era nessuno? Qui si è perso il capo, si è perso. E' un posto dare bacio alla mia ragazza. Perché la mia ragazza è incinta. Non toccate la mia ragazza. Non toccate la ragazza che è incinta. La mano! La mano! Oh, scendi! Fai il posto, vieni con me! Sento che sono vaccinato, imbecino! Ti devi mettere la mascherina, punto, e basta! Io ti spacco la faccia! Io ti spacco la faccia! Io ti faccio insatattare nella paleta che ti vabbia! Bucchino di merda! Mettiti la mascherina, merda! Mettiti la mascherina, ti faccio un bucio di culo così! In nome della legge, tu sperdetevi! I miei tranquilli, Sabrina, Antonio, Sofia, roba è qua per voi, per la vostra libertà! Lottate! Non arredetemi mai come non l'ho mai fatto io! Ancora! 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 Buon anno a tutti da Francesco Amodeo